Accogliamo sul palco agli MBW Sport il numero 54 Ramon, Giuseppe, Morezza, Mora Il numero 89, cara vita, Matteo Il numero 119, tedesco, Nicolò Sul palco per voi la categoria meno 80 kg bodybuilding Allora, rilassati di fronte ai giudici, gambe unite, bianco destro Di schiena Balla Tao Bianco sinistro Pronto ai giudici Doppio di bicicletta Doppio di bicicletta Espansione toracica Doppio di bicicletta Di schiena Doppio di bicicletta Doppio di bicicletta Doppio di bicicletta Dorsale Balla, fermo! Doppio di bicicletta 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 Doppio di bicicletta